Per Settimana Sport siamo con Andrea Miazzi, allenatore della Campese, con Edo Esposito, direttore sportivo. Allora, Andrea, cos'è mancato oggi alla Campese per vincere la partita? Ma è mancata un po' di lucidità, secondo me. Quando gli avversari sono rimasti in dieci, dovevamo giocare un po' di più la palla, essere un po' più precisi nei passaggi. Direi che è mancato questo, poi è stata una partita combattuta, equilibrata, ci abbiamo messo dentro tutto, ma non siamo riusciti a vincere. Direi, Edo, una partita molto maschia, ma direi anche corretta. Sì, assolutamente. È stata una partita combattutissima, loro sono un'ottima squadra, sono una delle poche che ci ha battuto in Coppa. Noi, purtroppo, in questo momento abbiamo la panchina un po' corta, quindi eravamo un po' anche affaticati. Però, 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 bene, dai, siamo contenti. Sì, direi che ho visto sulla palla più veloci i giocatori del Ponte Lungo rispetto ai vostri. Ad ogni modo, ci credete ancora per salire? Certo, è il nostro obiettivo, abbiamo ancora due partite, daremo anima e corpo per cercare di arrivare primi. Ok, grazie ragazzi e in bocca al lupo per il proseguimento. Grazie ragazzo. Trepi. Ciao, grazie, ciao, ciao.